un saluto agli amici della casa chiave di milano oggi abbiamo fatto una chiave per bicicletta elettrica dove a milano nessuno gliela faceva vediamo se la mia funge ecco qua ottimo salti del daniel sacoccia perfetto chiavi fatte milano casa della chiave number one ma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.